Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi. Oggi è venerdì e sto per uscire, ragazzi, ho fatto tardissimo perché sto facendo una serie di progetti. Quindi questo è un video, abbraccio, come si diceva una volta. Quindi non farò tagli, ragazzi, staremo un po' insieme anche oggi perché volevo parlarvi di alcuni progetti che sto portando avanti e farvi vedere un grafico che ritengo molto interessante, un grafico di Bitcoin. Per quanto riguarda un grafico settimanale, quindi una idea di lungo periodo. Andremo a guardare la, non diciamo pericolosità, ragazzi, comunque la particolarità di questo momento del mercato per il lungo periodo. Lungo periodo in questo caso non mi riferisco a tanti anni, ma mi riferisco a circa qualche mese, ragazzi, in linea di massima su Bitcoin. Intanto vi parlo di questi nuovi progetti che sto portando avanti, ragazzi, ci saranno delle novità, penso, nei prossimi mesi molto interessanti perché ho strutturato una serie di nuovi investimenti, di nuove strutture di trading per realizzare delle rendite, ragazzi, sì, delle rendite che stiamo già testando con tutti gli iscritti dell'Academy. Sono delle rendite un po' particolari perché alcune sono addirittura su valuta Bitcoin. Abbiamo come sempre i trading system, però, ragazzi, su valuta Bitcoin i trading system che avevo sviluppato per l'Academy non operano. E quindi nel prossimo futuro sto facendo una serie di calcoli, di analisi, non vi dico quanto tempo, proprio per realizzare questi sistemi che opereranno anche su Bitcoin, mentre già operativa una creazione, diciamo, di una rendita utilizzando le opzioni, ragazzi, che sono uno strumento estremamente interessante, ma di una complessità che non vi dico. Poi, diciamo, al di là di questi strumenti che sono già disponibili in alfa test, quindi super, diciamo, in una versione estremamente beta, quindi in prima analisi per gli iscritti dell'Academy, ma noi lì, ragazzi, testiamo insieme un po' tutto quanto. E' il bello di questo gruppo, diciamo, innovativo, quindi con tanti trader professionisti, quindi il bello è questo. E poi un'altra cosa, invece, interessante che volevo fare, realizzare un'altra struttura di formazione per rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte in questi ultimi settimane con le email, ragazzi, perché mi avete chiesto in tanti, alcune sono delle domande veramente basic, quindi mi rendo conto che probabilmente c'è necessità anche di dare un po' di formazione basic su come entrare sul mercato, come agire, quali sono le piattaforme più utili, soprattutto per chi inizia. Altri, ma, beh, mi hanno chiesto anche della formazione diretta, insomma, su questo sto un po' riflettendo, perché è complicato. Ma poi un'altra kick, invece, di un altro mio progetto, ragazzi, è realizzare un portafoglio di investimenti, perché dopo il mio video fatto a gennaio, quello dove vi facevo vedere i rendimenti sulle obbligazioni, quello che avevo realizzato anche sugli etf, tantissime email, ragazzi, su quali sono gli strumenti e quant'altro. Io sono sempre restio a fare queste cose, ragazzi, non perché non voglio, perché copiare altri trader è sbagliato, ve l'ho detto un milione di volte, perché, ragazzi, nei momenti in cui andremo poi a uscire, a fare profitto e quant'altro, voi non sapete quando io opero o che cosa combino, e quindi non potete copiare un trader così, ad occhi chiusi. Dovete formarvi, ragazzi, è sempre la soluzione più economica. Un giorno farò un video per dirvi anche quanto costa la non formazione. Molti magari pensano che andarsi a formare, o comunque leggere libri per il tempo, anche il denaro speso, costi tanto. Invece, ragazzi, vi assicuro, non è per niente così, magari molti di voi già lo sanno, ma l'ignoranza sui temi finanziari, quindi la non formazione sui temi finanziari, ragazzi, costa mille volte più di qualsiasi corso, di qualsiasi libro che andate a comprare, perché poi si perde sui mercati, si perde. Quindi farò comunque un progetto relativamente agli investimenti sul mercato Hold, quindi utilizzando anche Bitcoin, perché io lo ritengo un asset che deve essere inserito all'interno di un portafoglio. Io sono molto esposto sulle crypto, ragazzi, con i miei portafogli, con i miei investimenti personali, ma non sono tutti i miei investimenti personali. Non scordate, lo avete visto, insomma, anche quando vi ho fatto vedere il video sul mio portafoglio obbligazionario, è composto anche da titoli obbligazionari, quindi fatto anche, perché no, da titoli a capitale garantito, ETF e quant'altro. Quindi faremo anche un progetto su questa cosa. Poi, in ultimo, e poi andiamo a vedere Bitcoin, su questo grafico di lungo periodo, in ultimo, ragazzi, un'altra cosa molto bella, la Dollar Cost Average è arrivata ieri al nostro ultimo appuntamento. Vi faccio vedere tra poco anche dove siamo arrivati e poi faremo un video dedicato, perché questo esperimento l'abbiamo fatto, ragazzi, proprio per dare una dimostrazione dei pro e dei contro della Dollar Cost Average, cioè farvi capire quando va fatta come strategia di trading, quali sono i pericoli, i vantaggi, i svantaggi. E, come sempre, come piace a me fare, l'abbiamo fatta in real time, perché si capisce meglio, ragazzi, e quindi è più facile ed è più giusto, più corretto ragionare in questo modo. Ho parlato troppo, da quando ho i capelli corti, ragazzi, diciamo, parlo un po' di più, sono diventato più, diciamo, tendenzialmente più colloquiale, diciamo, parliamo così. Comunque ho tagliato questi capelli, ragazzi, ho dato una spuntata perché ero stanco, semplicemente, ma poi ricresceranno sicuramente tra poco. Andiamo a vedere Bitcoin, allora, eccolo qui. Questo è un grafico, ragazzi, che mi interessa, perché volevo mostrarvi una cosa molto importante. Intanto questo grafico è vecchissimo, risale a tantissimi mesi fa, non l'ho mai cambiato, chiaramente, la posizione ciclica è stata leggermente aggiornata di una o due settimane. Allora, intanto volevo farvi vedere la struttura di questo grafico a livello ciclico, ragazzi. Allora, i cicli, come molti sanno già di voi, o comunque avevano capito, ragazzi, fanno sempre questo movimento, che non è la M di Mauro, ma più o meno, ragazzi, se dovessi scherzare, vi direi, attenzione, è la mia iniziale. No, comunque, allora, volevo farvi capire come l'attuale momento su Bitcoin è di grande importanza, da un punto di vista anche di sviluppo di quella che è una configurazione futura. Perché, ragazzi, allora, intanto sul lungo periodo abbiamo fatto, nelle scorse settimane, abbiamo avuto un atteggiamento del mercato molto importante da due punti di vista. Intanto, questa trendline discendente è stata tranciata qui, ragazzi, in questa settimana, e il mercato ha avuto il suo tentativo di rialzo, quindi comunque ha avuto la prosecuzione di questa fase rialzista. Però, questa fase rialzista, ragazzi, non è staccata, intendo questa qui, questa di queste ultime settimane, non è staccata dall'anno precedente, perché i mercati, ragazzi, non ragionano in termini mensili, bensì ragionano in termini di lunghi, lunghi periodi. Quindi, questo ciclo, che è iniziato a dicembre del 2018, è un maxiciclo, ragazzi, molto ampio. Perché questa fase, dopo la bolla speculativa, ha chiuso una fase. Quindi, da qui in poi, possiamo considerare iniziata, da questo punto in poi, un'altra fase ciclica, completamente diversa, ragazzi, probabilmente di molti anni, quindi almeno due o tre. Questo è il mio pensiero. Quindi, dobbiamo guardare, se su un avvio di lungo periodo, io direi di scordarci il periodo precedente, facciamo così, e guardiamo questo, che invece è una nuova fase. È una nuova fase iniziata a dicembre del 2018, ragazzi. Quindi, è vero che a dicembre del 2019 abbiamo avuto anche questa fase di minimo, quindi questa fase discendente, questa gamba. Però, tutto ha inizio qui, secondo me, da un punto di vista logico, per i nuovi anni a venire. È quello che ci sta indicando il mercato in questo momento, che le prossime settimane, al di là delle oscillazioni, di chiusure e quant'altro, ragazzi, le prossime settimane, quindi anche i prossimi due o tre mesi, saranno di grande rilevanza, perché il mercato ha uno obiettivo. Un obiettivo che è di gran lunga il più importante di tutti, ragazzi, e il più importante anche di quello del 2017, cioè, da un punto di vista grafico, quindi di indicazione di forza, deve andare qui, ragazzi, vedete? Deve andare qui dentro il mercato, cioè deve andare a posizionarsi al di sopra di questi livelli di massimo. Se non lo fa, e nei prossimi mesi, ragazzi, il rischio è molto alto, perché c'è un rischio molto alto che si vada a innescare una spirale discendente dei mercati che nessuno di noi vuole vedere. Molti di voi mi dicono c'è l'alving di bitcoin che avverrà a maggio, probabilmente, però attenzione perché bitcoin, cash e bsb lo fanno prima, dovrebbero arrivare prima, se non sbaglio, adesso non mi ricordo bene, ma in ogni caso, ragazzi, vi assicuro che l'alving di bitcoin è scontato all'interno dei prezzi di mercato, quindi non vi aspettate niente di anomalo, perché semplicemente è tutto già scontato dai prezzi. I mercati lo sanno già che c'è l'alving, e quindi i prezzi attuali del mercato sono già inclusivi di questo fenomeno di analisi fondamentale di bitcoin, quindi di struttura di bitcoin. Probabilmente dopo l'alving magari potremmo assistere a qualcosa di diverso, potremmo assistere quando, ragazzi? Dopo, dopo l'alving di bitcoin, ma non prima perché, in teoria, diciamo, questa fase di alzista già è, insomma, abbastanza inclusiva di quello che sarà l'alving di bitcoin. Comunque, tornando a noi, vi avevo provesso un video senza taglie, quindi è più parlato questo video, ragazzi, guardate la formazione, tutto si gioca su questa gamba di alzista, perché se non andiamo a rompere il massimo potremmo assistere a questa cosa qui. Allora, questa cosa, ragazzi, significherebbe arrivare al prossimo anno, anzi, vi rifaccio il disegno per farvi capire, significherebbe arrivare al prossimo anno senza o nulla di fatto, cioè quindi in sostanza con degli andamenti di bitcoin che sono in barra di congestione, quindi, diciamo, divisi tra questi due maxi range, da questo maxi range, ed è una cosa che minerebbe, diciamo, anche tutte le velleità di grandi rialzi del mercato. Però parliamoci chiaro, tutto sommato sarebbe anche una cosa che possiamo ritenere estremamente utile per questo mercato per quando, ragazzi, non per l'anno 2020, ma magari per l'anno 2022, 21, 22, 23, per gli anni a venire, lo so che è brutto dirlo, ma perché magari molti di voi si aspettano un super pump bitcoin che fa le cose stellari, ragazzi, potremmo anche trovarci in questa situazione qui, che non si fa praticamente niente, e che andiamo a fare questo ciclo così che dura più del previsto. È già passato un anno che dal 2018-2019 il mercato ci ha dato un ciclo rialzista, la mia view attuale è che il mercato dovrebbe andare a rompere i massimi, io mi aspetto più o meno questo andamento, ragazzi, vedete, non un andamento che rimanga all'interno di questi parametri, e poi si vede, quindi dopo la rottura poi si vedrà. Certo è che in questo momento siamo ad una situazione estremamente, estremamente importante, perché il mercato, vedete qui, inizierà a tentennare, ora sta facendo una chiusura di un mensile, l'abbiamo visto negli ultimi video, quindi questo è normale, dopodiché dovrà andare, ragazzi, dovrà andare verso i famosi 13.000, qui, quant'era, insomma, 13.500 dollari, dovrà andarci tra poco, e se non ci va tra poco, probabilmente assisteremo ad una fase di rilassamento del mercato, di indecisione, magari di trading range, anche perché, anzi, vi faccio anche vedere questa cosa, anche perché, ragazzi, questa, questa parte qui, è una parte che si definisce la parte centrale di questi due cicli annuali, che si chiudono in questo modo, ragazzi, quindi nella parte centrale, il mercato potrebbe anche decidere di fare così, assolutamente, spesso fa anche questo atteggiamento, certo, parliamo di un qualcosa, di molto lungo, molto ampio, ma chi magari sta sui mercati da tanto tempo sa che spesso, ragazzi, è capitato che i mercati fanno delle grandi, grandi fasi di accumulazione, in questo caso, prima di decidere dove andare, certo, bitcoin abbiamo sottostante il famoso halving, quindi comunque c'è anche una tendenza a deflazionare bitcoin, perché adesso ci saranno meno coin tra pochi mesi minate ogni giorno, e quindi c'è una sorta di inflazione ridotta della moneta, e quindi, insomma, questo meccanismo si sa spinge un po' i mercati, ma, ovviamente i mercati ragionano anche con prezzi che sono legati, in questo caso, ragazzi, molto al principio riflessivo, quindi alle aspettative della blockchain, alle aspettative di mercato. Cosa succederà nei prossimi mesi? Ne vedremo delle belle, bisognerà stare attenti, e bisognerà stare, come sempre, sui grafici daily, su quelli un po' più moderni. Fra, vi avevo accennato della fase di ribasso lunedì, ne avevamo parlato, per quanto riguarda i mercati, entro il 21 di febbraio ci siamo arrivati, ribasso c'è stato, ragazzi, è finito, ho ancora un po' di dubbio, e su questo ne parleremo lunedì, perché potremmo vedere nei prossimi due, tre giorni, ancora un po' di volatilità, non sono convinto se i 9.003 siano stati sufficienti a fermare questa fase di bassista, attualmente noi siamo fuori dalle operazioni di trading, quindi siamo tutti flat, stiamo a guardare, uno dei miei trading system ha tentato l'ingresso, con l'ultimo rialzo, palesemente una manipolazione, e ha beccato questa volta una bella perdita, ragazzi, perché poi è uscito, vedremo se ha fatto bene in ogni caso, perché poi magari rientrerà a prezzi più bassi, that's it, vi avevo promesso di farvi vedere anche quella che era la situazione della DCA, ragazzi, allora in DCA c'erano tre tipologie di strategie che stavamo guardando, la Bitfinex e la strategia Dollar Cost Average, che ha completato i suoi ingressi investendo sei lotti da 2.000 euro, poi c'era la strategia del lancio della moneta, ragazzi, direi il lancio della coin, questo qui, ok, ragazzi, questo qui è proprio l'ho lanciata io a mano, la coin Bitcoin, e niente, questo lancio della coin, vedete, ha accumulato di più della Dollar Cost Average, perché è stata migliore, in quanto lanciando a caso, in sostanza, siamo riusciti a comprare più Bitcoin, perché erano prezzi più bassi, sempre più bassi, avremo anche un prezzo medio di carico più basso, ragazzi, ed un profitto più alto, ma questo, diciamo, è poco rilevante, quello che conta è il prezzo medio di carico, al, diciamo, completamento di questi lotti, poi l'ultima è la mia, ragazzi, che, non mi nascondo, l'ho fatta in maniera estremamente, non puntuale, perché, non sono sempre sul grafico, e non riesco magari, a comprare, diciamo, su TradingView, io uso spesso i Trading System, e comunque, come vedete, io sono ancora titubante, sono molto più protettivo, di queste due strategie, e sto ancora aspettando, per fare altri ingressi, e sono posizionato, con un prezzo medio di carico, molto più basso, ma solo, in questo caso, ragazzi, perché, non ho comprato altri lotti, ma, vi ho fatto vedere, questo, che è la struttura, della Dollar Cost Average, ne parleremo, ne parleremo, in un video dedicato, io, come sempre, vi ringrazio, vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana, a tutti, noi ci risentiamo prossimamente, lasciatemi un mi piace, per questo video, abbraccio, ciao a tutti!